Torniamo da i fornitori di tecnologia, in questo caso i fornitori di cloud, se mi è permessa la battuta, Diego Bonsanque di Microsoft. Eccolo. Poi battuta non era, ma voi siete... Si non vede i dati, sa guardate dei nostri passati. Questo è ora. Artificial intelligence helps farmers grow more food with less resources. She's not collecting information, she's feeding a growing population without wrecking the planet. Questo è real. An engineer explores how AI can help the deaf see sound. She's not looking at obstacles, she's staring down opportunity. Innovation doesn't see the possibility of tomorrow, it creates tomorrow. And are you ready for the headline? Tomorrow is here today. Allora, un buongiorno, benvenuto, un applauso innanzitutto. Un nuovo concetto, insomma una nuova keyword di Microsoft è la democratizzazione delle intelligenze artificiali. Pochi sanno che insomma voi siete tra i cinque grandi attori tecnologici che in qualche modo hanno rilasciato anche in formato open source dei tool per aiutare a automatizzare e anche a comprendere quelle che sono le potenzialità del machine learning. Vorrei capire qual è, insomma, come state pensando all'intelligenza artificiale, a che tipo di intelligenza artificiale state guardando? Allora, intanto come diceva lei, il nostro concetto è democratizzarla, che significa renderla disponibile a tutti. Quello che vediamo oggi sono imprese che hanno bisogno di avere accesso a queste tecnologie, però queste tecnologie hanno tutti una cosa in comune. Oltre ad essere complesse e avere bisogno di persone che all'università hanno studiato deep learning, hanno bisogno di potenza computazionale, quindi sia dei sistemi forniti dai colleghi di HP, ma soprattutto hanno bisogno di cloud. Perché il cloud? Perché ci può dare potenza computazionale, ma soprattutto una piattaforma software dove io posso andare a prototipare una soluzione in maniera veloce. Perché? Perché l'azienda oggi ha bisogno di essere competitiva sul mercato e essere competitiva sul mercato significa oggi ho un'idea, domani devo essere in grado di poterla sviluppare e metterla in piedi. Non tra sei mesi o tra un anno, perché è troppo tardi. Quindi l'idea di democratizzarla viene innanzitutto dal nostro CEO Satya Nadella. Lui vuole dare una piattaforma con una tecnologia a un costo accessibile e quindi livellare quelle che invece erano le possibilità solo delle grandi aziende di avere dei cluster computazionali che ci consentono di fare qualcosa come computer vision. Come diceva il nostro moderatore qui abbiamo rilasciato una serie di tecnologie in formato open source che vanno a fare una mimica di quello che si propone di fare l'intelligenza artificiale che è sostituire i sensi umani. Ma non sostituirli perché dobbiamo rimpiazzare l'uomo, ma per evitare tutti quegli errori che vengono da un'ingenuità o dalla complessità che l'informatica ha introdotto. Mi trovo spesso a parlare con clienti che mi dicono abbiamo un sacco di sistemi informatici e adesso invece io ho più complessità in azienda che non un beneficio e un vantaggio dal software. Il software ha introdotto un sacco di benefici ma tanta complessità e tante informazioni che non siamo in grado di gestire in maniera né uniforme né in maniera spesso veloce abbastanza. Quindi l'intelligenza artificiale vuole razionalizzare tutti questi processi. Per esempio voi tutti usate un cellulare, tutti usate l'email, è una perdita di tempo eccessiva. Quante ore spendete ogni giorno in azienda a leggere delle email? Pensate se ci fosse un'assistente digitale che le filtra per voi. Segna degli appuntamenti quando li deve segnare, risponde a chi deve rispondere probabilmente già sa la risposta, prende un file dal vostro computer. Non abbiamo sistemi così. Quello che vuole fare Microsoft è fornire piattaforme per creare cose così. Ti stai parlando con una delle persone che qualsiasi diavoleria che è uscita ce l'ha. Per cui ha una casa che sembra uno zoo. Però il tema vero è che per fare il nome di un concorrente, insomma, alle volte Google Home ti ascolta e non ti ascolta. E non è solo Google Home, voi avete Cortana che è il vostro assistente bucale. E' straordinariamente interessante il momento in cui tu parli con un telefono e il telefono fa quello che gli dici. E' emozionante perché ci riporta a 2001 edizione allo spazio. Però, insomma, in questo momento strumento di business è ancora un po' presso o sbaglio? Sono io che sono sfortunato, ho l'aereo strana per cui non mi capisce sempre. Diciamo che il problema degli assistenti digitali o dei chatbot è una realtà. Perché ovviamente sono tecnologie complesse, perché quello che si cerca di fare è spiegare a un computer a ragionare come un essere umano e a capire il linguaggio come lo fa un essere umano. A parte tutta la ricerca sul natural language processing o traduzione o text to speech, speech to text, quindi tutte queste cose qua. Ovviamente gli assistenti digitali ancora non funzionano benissimo. Noi non abbiamo rilasciato Cortana ancora in un formato hardware che si può, diciamo, un oggetto che io posso comprare per cui vado a interagire. Quello che vogliamo fare noi è fornire la tecnologia che ci sta dietro. E' ovvio che invece un Google o un Amazon si posizionano diversamente da Microsoft. si posizionano per un mercato consumer, come la Apple con Siri. Noi no. Noi forniamo piattaforme di business per un'azienda. Per voi la voce non è lo strumento per parlare con un oggetto e chiedergli di sviluppare delle ricerche e di accendere e spegnere le luci. Voi state creando una piattaforma vocale business. Esatto. Uno degli esempi che possiamo fare, che è un caso italiano noto, è il chatbot che abbiamo fatto per Vodafone. Chiunque di voi ha Vodafone Italia, ha un chatbot che si chiama Tobi, che è alla fine un assistente digitale per customer service, a cui potete fare delle domande e risponde. Addirittura può riconfigurare il vostro router di casa in automatico. Insomma, una serie di interazioni evolute. Perché l'avete chiamato? Non l'abbiamo chiamato noi, il nome è di Vodafone, si chiama Tobi. No, perché poi la cosa direttamente è che se li mettete insieme, perché si sono poi gli assistenti consumer e gli assistenti aziendali, e hanno tutti dei nomi che sembrano gli uragani, cioè Alexa, i nomi degli uragani del mondo. Tobi era particolarmente giocoso, non a caso è un CRM sostanzialmente. Esatto. Poi c'è per esempio Mercedes, e i Mercedes o c'è i BMW. Quindi non c'è grande fantasia, però. No, non c'è fantasia, loro volevano mantenere il loro branding, non volevano dare i dati dei clienti BMW o Mercedes a Google, e quindi hanno scelto Microsoft come piattaforma per costruirsi il loro chatbot. Avremmo un nome per tutte le cose. Io sono mio figlio di 3 anni che insulta mostruosamente tutti questi assistenti. ogni tanto lo becco, che gli parla e gli insulta perché non fanno le cose che gli dicono. Per questo è già quello... Io non posso, non dico la marca, però ovviamente ho anch'io a casa uno di questi oggetti, perché in quanto appassionato di tecnologia uso Cortana sul cellulare, ma per una questione di... Quindi Cortana? Perché Cortana? No, assolutamente no. Intanto Cortana perché non è disponibile in Italia, quindi se voi provate a scaricarlo dall'Italia ancora non è disponibile. No, ma perché il nome Cortana? Il nome Cortana... non ho idea da dove venga. Effettivamente è un avatar, è una donna Cortana. Ma non è quello di Halo? Può essere? Praticamente deriva da là, però non ufficialmente. Ah, ok. Allora lo dico io. Dal gioco, che è un gioco. Penso te, io la do io la notizia. L'intelligenza artificiale di Halo, che è il più grosso videogioco di... Xbox, uno dei titoli. Xbox, si chiama Cortana ed è una donna particolarmente avvenente. Vedremo poi che avrà una voce femminile o maschile adesso. È femmina mi sembra. Al momento sì. Va bene, grazie. Abbiamo fatto un'analisi. Non business, ma un'identificazione di loro. Allora...